Sequestro record di cocaina nel porto di Gioia Tauro, i finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria ed i funzionari dell'ufficio Dogane hanno trovato in due container provenienti dall'Equador e destinati in Armenia due tonnellate 734 kg di cocaina purissima occultate in un carico di frutta composto da 78 tonnellate di banane. L'operazione che ha portato al sequestro della droga finalizzata al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti è stata condotta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Nella struttura portuale dal mese di gennaio del 2021 ad oggi sono state sequestrate complessivamente circa 37 tonnellate di cocaina. L'eccezionale risultato eseguito è detto in una nota e il frutto di un'attività di intelligenza e di analisi costante delle rotte commerciali che dal Sud America giungono nel Mar Nero transitando dallo scalo calabrese. Gli approfondimenti sulla documentazione reperita e i controlli incrociati effettuati mediante le banche dati sulle società coinvolte nell'operazione hanno confermato le ipotesi investigative e la necessità di procedere all'ispezione dei due box refrigerati in cui era nascosta la cocaina. La stessa è stata individuata dopo lunghe e complesse operazioni di ricerca con l'ausilio di sofisticati scanner in dotazione all'ufficio Dogane e delle unità cinofile della Guardia di Finanza con il cane antidroga Joelle.